Ieri 29 aprile sul Monte Sant'Antonio l'Associazione Poseidonia, rappresentata dal suo presidente e prof. Salvatore Calicchio, ha incontrato il CAI di Prato e il CAI di Montefeltro, le Proloco di Camerota e le istituzioni del comune di San Giovanni Appiro, Camerota e Centola. Ecco i servizi. Siamo a Monte Sant'Antonio davanti alla cappella omonima. Abbiamo il piacere di avere con noi due gruppi CAI. Il primo di Prato, rappresentato qua ai microfoni da Domenico, e il secondo gruppo CAI di Montefeltro, che è stato già con noi nel Cilento per una settimana e li ho guidati a partire da Santa Maria di Castellabate. Cosa presentiamo oggi a livello nazionale e internazionale? Presentiamo il percorso delle sette torri che abbiamo fatto qualche decina di anni fa e che abbiamo inaugurato col CAI di Salerno. Questo percorso parte dal fiume Mingardo, dalla torre del Mingardo e arriva alla torre del Poggio a Marina di Camerota. La lunghezza compresa questa sosta è sui 13-14 chilometri e mette a disposizione di quelli che fanno trekking uno dei tratti di costa più belli d'Italia, il tratto di costa che c'è tra Capo Palinuro e Marina di Camerota. Vorrei ricordare che tutta la costa del massiccio del Bulgaria è 43 chilometri, di origine calcarea come Capri. Detto questo vorrei ricordare e do anche la parola a due esponenti delle istituzioni locali, il consigliere Sorrentino Giuseppe di San Giovanni Appiro e il consigliere Guzzo Pierpaolo del comune di Camerota. Dovrebbe arrivare anche il sindaco dicendola ma se non arriva è come se fosse presente perché ci ha telefonato già due volte e ha anche i suoi impegni e i suoi problemi. Passo subito la parola ad Aldo che è il più giovane del gruppo che parlerà. Io sono Domenio del Cai Prato, a noi ci ha fatto molto piacere conoscere Salvatore, ci ha accompagnato in questo percorso bello sulla costa, bello, molto bello e ci tengo che vada avanti così perché sta facendo una bella promozione a tutto il Cilento. Vi ringrazio a nome del Cai Prato. Grazie a voi. Passa subito la parola ad Aldo che ormai è cilentano. È cilentano, sì, da adozione. Siete giorni che sta qua. Abbiamo fatto una settimana di trekking con Salvatore e Naturaliter, molto bene, sia dal punto di vista organizzativo che dal punto di vista naturalistico. Ringrazio nuovamente tutti e buona giornata. Grazie a voi. Do adesso la parola a Pierpaolo Guzzo e poi al nostro ospite di San Giovanni Appiro, col quale già abbiamo impostato un piano di lavoro insieme all'amico Sorrendino che deve venire pure lui qua perché è una colonna ormai del comune di Camerota, del Bulgaria e di Marina di Camerota. Grazie a tutti. Penso siano 25 anni che si dedica a queste attività, si dedica soprattutto alla diffusione del nostro territorio e lo fa soprattutto in un periodo di bassa stagione dove tutti possono ammirare le tantissime bellezze e inserendo anche quelle che sono le tipicità del nostro territorio con questi prodotti che sono tra l'altro coltivati sempre dall'azienda dell'associazione del professore e quindi che dire, io lo ringrazio ancora una volta perché va a pescare quei segmenti di turismo non soltanto naturalistico ma soprattutto fa in modo da far conoscere il nostro territorio in una maniera più approfondita che non è soltanto perché questa è la dimostrazione che il nostro territorio non offre soltanto il mare, uno dei mari più belli d'Italia, delle spiagge più belle d'Italia ma nello stesso tempo anche la parte interna, il trekking rappresenta un valore aggiunto per cui la diffusione e la conoscenza di questi territori penso che possa restare impressa e lo vediamo dai tanti gruppi che ogni anno affollano i nostri paesi soprattutto la novità è che li affollano soprattutto nei periodi di bassa stagione e quindi questo è il merito di chi da tantissimi anni fa in modo che il nostro territorio venga apprezzato e conosciuto non soltanto in alta stagione ma soprattutto in bassa stagione io vi auguro con questo una buona continuazione e la speranza di vedervi qui anche l'anno prossimo Grazie, passiamo adesso la parola a Sorrentino Giuseppe che è consigliere comunale a San Giovanni Appir un comune col quale conviniamo e abbiamo tante cose in comune non ultimo e non la meno importante è la nostra origine che è legata al monachesimo italo-greco Grazie Salvatore, anch'io mi associo ai saluti dei due gruppi CAI li ringrazio per averci onorato della loro presenza questo è di buon auspicio perché finalmente questo territorio comincia ad essere conosciuto noi abbiamo tanto come soprattutto dal punto di vista naturalistico non solo il nostro bellissimo mare ma soprattutto l'entroterra con le sue montagne così vicino al mare la particolarità del nostro territorio è proprio questa quella di avere le montagne in particolare il bulgheria vicino al mare e quindi dei sentieri che in una sola giornata ti portano dai 1225 metri del bulgheria alle spiagge della costa dell'area marina protetta degli infreschi e della masseta è importantissimo il lavoro delle associazioni, quella del professore Caricchio quella nostra, Sentieri del Cilento di San Giovanni Appiro appunto per il recupero, la manutenzione, la valorizzazione di queste risorse interne che in effetti puntano a recuperare un patrimonio storico legato alla pastorizia, all'agricoltura un patrimonio che ci hanno lasciato i nostri progenitori, i nostri nonni insomma ed è un peccato che vengano abbandonati insomma e grazie all'opera di persone importanti come Salvatore insomma si riesce a recuperare sentieri che altrimenti andrebbero coperti dai rovi ok grazie ancora e buona continuazione io do la parola anche a Lucio che insieme a me è una delle colonne storiche del cammino sul massiccio del bulgheria noi non camminiamo solamente, noi scopriamo anche, recuperiamo i vecchi sentieri questa è la cosa più importante secondo me che abbiamo fatto è arrivato anche il presidente del prologo di Marina di Camerota che invitiamo dopo che ha parlato Lucio o l'altra colonna del cammino del massiccio del bulgheria invitiamo ai microfoni a dare il saluto adesso passo la parola a Lucio allora da parte di Salvatore sono 25 anni da parte mia sono 20 anni che mi dedico un po' al territorio da parte mia grazie un po' a tutti quanti cosa facciamo lungo il territorio? lo stava inserendo un po' Salvatore lo dico sempre, noi piace raccontare il territorio raccontiamo tutto quello che incontriamo dall'agricoltura, dai lavori artigianali nello zaino portiamo il territorio di solito capita che durante i percorsi ci mettiamo a cacciare dallo zaino non tanto l'acqua o quelle cose che ci servono per il cammino ma cacciamo l'erba sparta quei lavori che raccontano il territorio grazie a tutti grazie Lucio do la parola a Ginetto, il nostro presidente che rappresenta bene il territorio anche a livello nazionale arrivando anche a pigliare qualche finanziamento come ha fatto l'anno scorso dando non solo lavoro a due giovani di Camerota ma dando un servizio soprattutto ai turisti do la parola al nostro amato presidente grazie Salvatore ma più che due quest'anno ne abbiamo avuto tre io ringrazio te invece Salvatore per la promozione che fai e colgo l'occasione perché forse non tutti lo sanno da quest'anno abbiamo istituito un protocollo di intesa con il CAI nazionale UMPLI e CAI quindi il prologo di Camerota che è scritto all'UMPLI e anche controciata con il CAI a pro di questo caro Salvatore per te un piccolo omaggio per il lavoro che fai è il nostro emblema il nostro saluto delle quattro frazioni per tutto il lavoro che fai per noi Salvatore grazie a te grazie a tutti quanti voi è buon proseguimento grazie a voi io volevo terminare questa sì allora aspettiamo il sindaco dicendola anche se interrompiamo perché è molto importante la presenza del sindaco dicendola col quale noi abbiamo legami forti geografici prima di tutto poi storici ed economici pensate che oltre a Palinuro che gravita insieme su questo territorio abbiamo un'altra frazione interna che è San Severino di Centola dove ci sono le gole del Mingardo che sono uno dei posti più belli del parco è là che io ho visto la lontra per esempio a metà agosto che nuotava nel fiume e in quel paese come a San Giovanni Appiro e come a Palinuro e sulla costa di Marina di Camerota c'è un fiorellino la campanula fragilis che abbiamo fatto vedere al gruppo di Montefeltri ma che vogliamo che diventi il simbolo del massiccio del Bulgaria e faremo una prima iniziativa a giugno a Camerota che va in questa direzione proporremo ai vari comuni del territorio di deliberare come fiore nostro del massiccio unico per distanziarci dall'altro territorio questa campanula fragilis tenendo presente però che noi già abbiamo la primula di Palinuro che nasce qua da noi quindi facciamo anche questa operazione grazie a tutti grazie a tutti